L'America del nostro scontento è il racconto, è una raccolta di racconti, di storie, di personaggi, di abbozzi, di vicende, anche vicende molto piccole. È sostanzialmente la storia di un viaggio, un viaggio che occupa due anni, dal 2015 al 2017, quindi sono gli anni del passaggio di poteri, da Barack Obama a Donald Trump, ma sono anche gli anni in cui l'America, come peraltro ormai da parecchio tempo, l'America appare un paese sempre più diviso, sempre più spaccato, un paese diviso tra città e campagne, tra nord e sud, tra costa est e interno, un paese spaccato tra i gruppi etnici, un paese spaccato proprio anche sul senso della propria missione, delle proprie tante identità. È il paese che sente in qualche modo la fascinazione, la fascinazione del leader, in realtà lo slogan Make America Great Again, cioè lo slogan di Donald Trump, non è molto diverso dalla hope, dalla speranza di Barack Obama. Entrambi slogan e in qualche modo anche politiche irrealistiche rispetto a una realtà che appare sempre più traballante. Quindi un paese nel pieno di una grave crisi di identità, di una grave crisi, di un declino generale. Allora, in questo paese ho viaggiato per due anni, cercando in qualche modo anche di allontanarmi dal ciclo delle news, 24 ore su 24, delle breaking news. Ho viaggiato mettendo insieme il passato, le storie del passato, anche le mie storie personali del passato, la storia passata americana con quello che vedevo, con l'osservazione appunto dei personaggi, raccontando proprio le loro vicende, i loro sguardi, le loro parole, le loro storie. Ecco, allora il senso del libro è proprio questo, può essere letto come il racconto dell'America che produce, che crea Donald Trump, ma può essere letto anche come una serie di storie, storie appunto individuali, storie di persone, dei personaggi che ho incontrato e che in qualche modo, come diranno, sono tanti rivoli, rivoli di tante storie, di tante vicende individuali che poi vengono raccolte nella storia più larga, della storia dell'America di questi anni. Il libro raccoglie cinque storie poi specifiche, particolari. La prima è il racconto del viaggio, il viaggio che ho fatto da Buffalo, quindi all'estremo nord, fino a Washington, nei giorni precedenti, l'inaugurazione, l'insediamento di Donald Trump e lì ho raccontato, ho incontrato una serie, alcuni americani, e ho raccontato quello che questi americani sentivano, provavano, vivevano proprio nei giorni precedenti l'inaugurazione e l'insediamento del nuovo presidente. Poi ci sono invece tre storie che raccontano luoghi particolari, luoghi simbolo della storia americana di questi ultimi decenni. Il primo è Meridian, a Meridian nel 1964 tre ragazzi furono massacrati dal Ku Klux Klan nel sud appunto degli Stati Uniti, in Mississippi, fu una storia famosissima, poi ne è stato tratto, a parte ovviamente tanti resoconti giornalistici, libri eccetera, ma anche un film molto famoso, Mississippi Burning, è una storia che ancora non è stata conclusa, che nel 2015-2016 hanno chiuso senza una verità vera, ufficiale, senza capire esattamente per esempio chi ha ucciso quei ragazzi. L'altro luogo simbolo secondo me è Allentown, che è in Pennsylvania, è questa grande periferia industriale, ormai in pieno declino, hanno chiuso le industrie, ci sono migliaia di disoccupati ed è il luogo dove negli ultimi anni c'è stata una vera e propria epidemia di morti per eroina. Anche lì vado e incontro un padre che ha perso la figlia. E poi per finire Wichita, Wichita è nel centro del paese ed è il luogo dove da almeno vent'anni è in corso una vera e propria guerra sull'aborto. Hanno ucciso un dottore, George Tiller, è un famoso episodio di cronaca degli ultimi anni e li infuria veramente da anni la battaglia contro l'aborto. E infine poi l'ultimo racconto, l'ultima storia, è una storia di una settimana, dieci giorni, passati a New York nell'estate del 2016. C'era tutta la questione dei matrimoni, dell'adozione gay, ma io racconto come una pillola, il Truvade, come una profilassi, la PrEP, che permette in qualche modo di limitare, una pillola che limita la possibilità di prendersi, di diventare seropositivi, ecco come una pillola cambia, cambia l'affettività, cambia gli stili di vita, cambia il modo di far sesso e quindi la vita della comunità gay a New York e in tutti gli Stati Uniti. Diciamo questo, quindi, queste sono le storie e l'approccio è un approccio soprattutto di racconto, è un approccio che racconta le storie, quindi il reportage attraverso poi gli strumenti della narrativa, quindi ci sono molti dialoghi, ci sono le mie reazioni a questi personaggi, ci sono davvero le storie, quindi diciamo lo stile è davvero quello del, almeno il tentativo che ho fatto, del reportage narrativo, cioè della narrazione dal vivo di queste vicende, di questi personaggi. Grazie a tutti!